11 marzo 2022 ore 12 e 15 ci troviamo agli castagni trans al castagnetto qui ai piedi di questi maestosi alberi di castagno ultramillenari osserviamo un po la patato quasi radicale eccolo qui anche se da qualche anno il castagno mi cade una bocca comunque ecco i ricci proseguo da questa parte alzi questo millenare intrasse colare guarda che bella scenario bellissimo un bellissimo scenario ancora più bello e ingandevole chi visita questi luoghi adesso giriamo da questa parte adesso ho considerato il tempo a disposizione e mia intenzione scendere su tutto il tempo per fare noi scussioni ecco gli altri castagni il martembo produce anche danni e caduto un ramo di castagna ma la natura nasce e rimuove ecco qui proseguendo questa parte qui caduto un altro albero altrettanto questo si è seccato eh prima non era secco è seccato questo è secco da circa due anni è caduto proseguiamo da questa parte che ha letto qua qui c'è sempre qualche brava persona che con propuso impegno e passione a darglielo sta pianta